Parliamo adesso di sanità, anche i sindacati CGL, CISL e Will si mobilitano contro le gravose condizioni di lavoro. Ce ne parla nel servizio Emanuele Floris. Convocazione stamattina nella sede CGL di Largo Budapest degli attivi unitari di CGL, CISL e Will. Il tema è la sanità e le carenze sia in termini occupazionali che di incompiute riforme territoriali nel nord Sardegna. Il primo obiettivo dell'attacco è l'Ares. Confermiamo, quello che abbiamo sempre detto, che la gestione centralizzata in capo ad Ares è stata un fallimento. Per cui come sindacato chiediamo che si decentrino i poteri e la gestione delle aziende, perché la sanità si fa sul territorio. A soffrire in particolare l'Hub del Santissima Annunziata con gestionato di presenze a causa della mancanza di filtro degli ospedali vicini. E la U di Sassari non può dedicarsi all'alta specializzazione e l'utenza non viene curata nei tempi dovuti. Di conseguenza anche gli operatori del settore lavorano male per non dire che il benessere organizzativo è una chimera. Dal confronto di oggi uscirà un documento unitario da sottoporre alla giunta della Presidente Todd con la richiesta di misure immediate per il comparto. E' chiaro che se noi a breve non vedremo degli interventi strutturali, degli interventi definitivi, è chiaro che dovremo tirare sull'asticella e non è escluso che potremo andare anche a uno sciopero generale.